Sindaco, la giornata della gentilezza. Quanto è importante la gentilezza e le belle parole nella società attuale? Per noi è importantissima, tanto da prevedere un indizio di mandato, tanto da prevedere una delega specifica data alla nostra Monica Cito. Una delega tra le pesantissime delega della Monica Cito, e cioè alla legalità, alla gentilezza e soprattutto alla cultura e allo spettacolo. È un osmosi tra bellezza della cultura, senso del rispetto delle regole e quindi legalità e un humus a cui viene proprio perché poi si espanda sempre di più questo concetto di gentilezza. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, il nostro ruolo, quello di creare un ambiente salvo, un ambiente accogliente. Chiaramente sperando che ci sia un'esperienza così bella come quella di Sama e come quella dei nostri genitori che sono stati presenti oggi qui in Aula Consiliare, perché la vita dei nostri giovani bruscianesi sia l'insegno della gentilezza. Partendo dalla gentilezza vuol dire educazione rispetto alle regole, vuol dire vivere in un ambiente salvo. Un messaggio ai giovani? Allora, frequentate le istituzioni, guardiamo la bellezza della cultura, i colori dell'arte come in quest'Aula Consiliare, nella prospettiva di una città bella e accogliente come Bruciana, la festa dei G, la residenza della bruscianesità ai suoi massimi livelli. Grazie Sindaco.